E ben ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Wario, vi rubo solo due secondi ragazzi per chiedervi scusa di questa attività di quasi un mese sul canale, ho avuto diversi problemi e impegni durante queste vacanze natalizie Ma ora sono tornato, lasciate subito un bel pollicione ragazzi per il ritorno di Velox sul canale, guardatevi il video fino alla fine perché secondo me merita e nulla Noi ci vediamo alla prossima con un nuovo video, un saluto da Wario e bella Let's go bro, ci sei? Ci siamo? Pronto? Ci siamo, ci siamo, siamo in compagnia del dottor Velox Proprio lui, incredibile Dove andiamo? Siamo per assalti? Dove vuoi tu zio? Vai ripetiamo salti dai Oddio fatale qui sotto sotto, proviamo? Come vuoi tu? Vai proviamola dai Non vedo manco tanta gente No non sembra essere tanta gente infatti Ne vedo uno, due Potremmo andare, o la casa qui Sta cazzo di casa bianca l'hanno presa gli altri Allora io vado qui, sì lo squi Io mi sto giocato tutto per tutto atterrando dietro la casa bianca dove ci sono quei piccoli capannoni Vai vai Ok c'è una cassa Che è il fieno che non si distrugge Oh pompa viola, buono Beato Qui ho la R verde Io R blu Minchia Ok ci alleggiamo sto pezzo di merda Sì Qua davanti a me C'è un pompa qui Qua Ho appena pigliato lui Buono E ci si entrambi? Sì Bravo Perché non mi piglia il pompa? Mi devo triggerare Il solito Non lo raccoglie Speriamo che lo cambino sto bug perché è fastiosissimo Te lo giuro veramente Cioè se quante volte rischi di morire per sta stranzata Sì 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 Ma il pompa l'hai preso C'è la pompa verde Strano che siano spariti quelli là Erano qui Sì infatti Vabbè comunque la safe è vicina Qua c'è una cassa Ma la piglia Vai Scaroro zio Davvero? Sì Vai vai Non possiamo perdere se c'è lo scaroro Che culo mamma mia In una cassa lo scaroro Guarda che ce ne vuole Te lo giuro Sì 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 Devi sapere esattamente quanti ne spawnano ogni partita Secondo me sono veramente pochi Eh o uno o due No ma che è Ma che dici Ne trovo un sacco di gente con Davvero? Sì 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 Secondo me è cinque tipo Una gara del genere Minchia Vedo nessuno No nemmeno io È abbastanza solitario Oh meglio zio Ce la vinciamo easy Sì 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 L'importante è fa Arriva alla fine via L'importante è quello L'importante è partecipare Tre medikit Ho anche due pozioncine di scudo Uno scaroro Il cecchino Il pompa Abbiamo tutto zio Solo quello che ci serve per divertirci Sì Inizio È per far divertire gli avversari soprattutto Ecco Io devo togliermi il vizio Che tira fuori la lingua Quando gioco Se non mette la webcam Un cane Qua c'è una scala Oh finalmente Ma non so se l'hanno appena fatta Potrebbe essere Si sparano Si sparano da destra verso sinistra Ok destra li vedo Sopra la scala Ok Sopra la scala ho visto Andiamo a piare quello sopra la scala Vai proviamo Ok c'è Si sta sparando con altri Quindi è un momento adatto Per serie zio Vai Arrivo ti sto dietro Oddio sono morto Mi sa Se non ti muovi Tranquil tranquilo Bravissimo Gli ho feriti tutti e due Alla morte Cioè non ho fatto A una kill L'ho fatto Ok Oddio mi sparano Un cecchino zio Cioè ho pensato di una vera Vai vai muriamoci Allora Ah buono C'è un cecchino comunque Che non so dove Vai vai lo prendo Ma quante roba avevano Un botto zio E un altro scudo C'è un medikit anche Si Ne ho tre anch'io eh Aiuto Riusciamo a capire Dove era quello Che stava sparando Con il cecchino Eh da qualche montagna Sicuro Stanno ancora sparando Ah l'ho visto È un mongoloide Da dove Mi ha hittato Adesso lo scopo Da dove Nella montagna davanti a Ma minchia Curami un attimino Ti scongiuro È lontani Non ti può uccidere Zio questo qua è un fenomeno Fortissimo Ha sparato due colpi E un tiro E mi ha preso Minchia Ma quello lì Bolt action O quell'altro Non lo so Eh rinforzo un po' le barriere Ora che mi curo io Si si Che stanno buttando giù tutto Si ammazza ora Ti giuro ci ammazza Tranqui tranqui Oh mi ha rotto Ho fatto due strati Ok ed è nella safe zone Prova a vederlo Guarda ti butta lì in un colpo Vedrai eh Affacciati Minchia Ti hai hittato? No non mi hai hittato Però l'ho fatto pelo proprio È lì fermo che mira Provo di novatitarlo Zio ci provo Ma che cos'ha? Lo sto sfiorando Vedo il proiettile che Ma preso Zio è fortissimo Ed è uno eh Madonna Ma che minchia L'ho colpito L'ho colpito Basta lo finisco Davvero? Sì lo finisco con l'SMG Sparagli Sta laggando il gioco Sta morendo zio Spara Io controllo anche dietro Tutti mi colpi Sparagli È morto se spari Sparagli con la R zio Sta morendo Sì Morto Vintato Ma ti colpi hai di R? Oh ok C'è 211 211? Sì Me ne dai Ne ho 50 e basta Tieni Thank you Ok 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 Qua c'è Son band Me la posso pigliare Ora posso Vai sì Hai mini scudi? No Io non vedo nessuno Comunque Tutto totalmente vuoto Non ho capito Sì Ora come ora Anch'io non vedo niente Una safe È una safe Si sta rimpicciolando Sì e noi siamo al centro Quindi Meno male dovremmo trovare qualcuno Invece niente Sì Infatti mi sa che ora Sopra le montagne Ho paura Occhio eh brodas Lancia granate coda Uh scudi Buono Vuoi tu lo scudo Sì che ti serve Sì Lancia granate al posto dei medikit Posso dare le bende L'hai preso tu lancia granate Ok Prendilo prendilo Prendi le bende Prendi le bende Sì Aspetta bevo lo scudo Una cazza qua Aspetta che l'apro Vai Intanto io continuo La scudo Me lo applico subito Fermo Teco tirano la scala Ok Sì sì Sto andando su Sì alla fine Cosa mi hai da fare Da fare stare qua sopra Eh però adesso sicuro C'è gente Infatti stanno già Stando a faranzio Fermo Uno sta morendo Fermo Sono morti Le mazzo Non è l'ultimo Cioè non è l'unico Bravo Prendo lo scar Prendiamo su Arrivo Ma siamo sicuri che Facesse parte del team di Eh sai che mi sa che era un altro C'è uno scar viola qua Vabbè ce lo oro Qua c'è una casa Cioè zio Qua è pieno di gente Secondo me Vogliamo fare una kill strana Sull'ultimo Sugli ultimi Eh se rimane l'ultimo Tipo lanciarci e spararli Mentre stiamo volando Tipo rischiare la partita così Andiamo in altissimo Vuoi provare a fare sta cosa folle Sì 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 Adesso Quanti ne è rimasti Ah ne è rimasti pochi Finché se ci pusciano E No tra tra Allora da qua vediamo tutto zio Aspettiamo e basta Guarda che siamo al board Usata dalla save Non chiuderà mai qui la successiva Quindi Faremo sicuramente Dovranno sicuramente spostarci Sì Siamo contro due team Sto guardando col cecchino Se vedo qualcuno Ok li vedo A 60 60 Dove Non l'ho preso 60 c'è un fortino in fondo Non l'ho preso Lo sto sfiorando Qua sotto c'è un airdrop Vai scendiamo da sta merda Scendiamo? Aspetta Ok ne è morto uno Mi è caduto come un coglione Aspetta un po' Aspetta un secondo zio Siamo contro due Sì sì Fammi aprire quell'airdrop là Che voglio vedere se trovo qualcosa di figo Per trollare Sì voglio capire dove è l'airdrop L'hai visto? Eh qui a 3.30 Dove c'è sta costruzione Occhio che Ce l'hai dietro è messa Vaffanculo Ma chi è che ha fatto sto fortino Attorno all'airdrop? Eh ha messo loro Come loro Eh voglia Che volo che ho fatto Non c'è niente di che C'è uno scarpiollo vuoi? No ce l'ho ce l'ho Ok Dobbiamo Possiamo fare quello che vogliamo Dove sono? Sono indietro Quella Quella barriera di merda là Vediamo? No Ok l'ho visto Sono qua sotto Sotto quest'albero qua Guarda facciamo una cosa Io lo butto giù tutto Con l'albero? Questi qua dove c'è l'airdrop Li butto giù tutti Ora si pigliano l'airdrop però Ah ma sono là sotto Ma allora gli faccio che delle bombe In testa Spera io ti distruggo la cosa Hai butto io giù? Non penso ci arrivino però Stanno pigliano l'airdrop Ma che cazzo spara il suo tipo? Uno è morto dai E' mai l'ultimo da trollare Ok 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 Troviamo l'ultimo Ok io direi Trovo un trick No no ma che trick Lo intrappoliamo fidati Scendiamo giù Scendiamo giù Ma è come scendiamo però Devi fare tu la scala Io non i materiali Sì sì vieni Ho un po' di legno Ma lo vuoi usare per Ah si sta sparando zio Aspetta che lo hit un po' Per farlo cagare in mano Ah è qua davanti a te Fermo fermo L'ho hitato Non ha scudo eh Ha soltanto pochissima vita Sarà stra arresto Hai la granata per farlo ballare? No magari E' qua sotto di me Si sta curando Sei pronto? Eh io volendo poter Provare anche il trick No zio mi sta ammazzando Ok sto facendo le barriere Lo sto provando ad intrappolare Vai vai Chiudi sto stronzo Chiudilo chiudilo E' chiuso? No non c'è che apparo Dove cazzo è? Mi sa che è su ma Non è chiuso del tutto È su è su È chiuso? Eh sì Mentre un po' Oddio Oddio è dietro Oh cazzo È qua oddio Vabbè dopo farlo venire qua Mi piazza il trappolo un po' A cazzo Fermo È qua qua Ok l'ho richiuso No C'è una trappola davanti a lui Minchia è chiudibile Non muore È chiuso? No Mi sta sparando Sto morendo zio Coprimi un secondo Che mi metto un medikit Non morirmi eh Non Non morirmi eh No no io sto cercando di chiudilo ma Sono mille trappole Ce l'ho a fianco zio Ce l'ho a fianco a me È qui Finito i materiali Io no L'ho chiuso fuori dalla safe Morendo la safe Morendo la safe credo Morendo la safe zio È chiuso fuori dalla safe È qua No è uscito Ce l'hai a fianco zio Ce l'hai a fianco Non riesce a morire Ti ho messo la trappola a fianco No l'ha sfiorato No No Vaffanculo Ma è immune Era immune Ricky piove Questo è italiano Te lo dico Abbiamo appena Trollato un italiano Aiuto Eh va bene Vabbè ragazzi Per questo video è tutto Io ringrazio ancora tantissimo Leo per aver partecipato a questo video Passate al suo canale Ciao A presto con un nuovo video Un saluto da Warry Dolevo e Bella